Si tratta di una risoluzione assolutamente positiva che riconosce, a partire dalla straordinaria eccezionalità del caso italiano, sia gli sforzi che il Governo sta compiendo che il bisogno di trovarci meglio preparati di fronte ai rischi di eventi straordinari. Sicuramente è un passo in avanti la proposta di modifica del regolamento del fondo di solidarietà che accelera le procedure, snellisce e rende più immediata l'erogazione delle risorse rispetto anche alla decisione assunta. Un modo per avvicinarci ai bisogni dei cittadini, ma è una risoluzione che va oltre. Ringrazio davvero tutti i colleghi con cui abbiamo lavorato alla stesura finale perché prende atto che di fronte a situazioni eccezionali non possiamo limitarci ad attendere, ma dobbiamo prevenire e ridurre i rischi al minimo. Per questo domani sarà importante votare e approvare i paragrafi 6 e 7 per chiedere non solo il massimo della flessibilità possibile, ma per ribadire l'urgenza dell'esclusione dal patto di stabilità e crescita degli investimenti realizzati attraverso i fondi strutturali per mettere in sicurezza i territori e le aree più rischio. Non si tratta di una richiesta italiana. C'è un'ampia aria nell'Europa del Mediterraneo e in quella orientale che, come riconosce la stessa risoluzione, è fortemente a rischio per eventi naturali. È un'esigenza di tutta l'Europa. Consentire un piano strategico di messa in sicurezza, agevolando e derogando alle norme del patto di stabilità e crescita lo dobbiamo a tutti i cittadini europei. Quindi davvero grazie per questa discussione.